Ballando con le stelle. Paola Perego è la sesta concorrente ufficiale. Annunciata la sesta concorrente di Ballando con le stelle. Si tratta della celebre conduttrice ed ex modella di origini lombarde. Pochi minuti fa è stato annunciato un altro concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura e Giovanni Terzi, finalmente si è aggiunto un altro tassello al cast del celebre talent di ballo condotto da Millie Carlucci, che si preannuncia essere, stellare, in tutti i sensi. Ecco di chi si tratta. Paola Perego a Ballando. Paola Perego sarà ufficialmente la sesta concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. La prima puntata della diciassettesima edizione dell'amatissimo programma, andrà in onda il 21 ottobre su Rai 1, e insieme alla Perego vedremo tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi nella nobile arte del ballo sulla pista più famosa d'Italia. La celebre conduttrice quindi si unirà al cast di Ballando con le stelle insieme alla sua amica Simona Ventura e al compagno di quest'ultima, Giovanni Terzi, annunciati una settimana fa dalla pagina Instagram ufficiale del programma. Nel video annuncio Paola Perego è stata immortalata mentre, vestita in abbigliamento sportivo, si trova sul divano di casa sua intenta a guardare flash dance e consumare patatine e salatini. A un certo punto, una voce fuori campo le chiede cosa stia facendo e le intima di prepararsi per l'imminente debutto a Ballando. Un nuovo svelamento. È Paola Perego la sesta concorrente di Ballando con le stelle 2023. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì. Recita la descrizione del video. Recenti rumors avevano già accostato il nome di Paola Perego a quello della celebre trasmissione di Millie Carlucci, e ora la conferma è finalmente arrivata. Non resta da chiedersi come se la caverà la conduttrice nelle vesti di ballerina. Non manca molto a scoprirlo. Chissà chi sarà quest'anno a rivelarsi la stella indiscussa della competizione. Una cosa è certa però. Le premesse sono ottime e quella di quest'anno si preannuncia essere una gara vincente e capace di coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Le indiscrezioni sugli altri concorrenti e la giuria. Per quanto riguarda i prossimi concorrenti. Toccherà aspettare ancora un po' prima di sapere chi altro si improvviserà ballerino sulla pista di Ballando tra poco più di un mese. Da settimane ormai circolano sul web liste di nomi anticipati da diverse testate giornalistiche e da vari profili social. Tutti papabili concorrenti che però non sono ancora stati confermati da Millie Carlucci. O almeno non tutti. Per esempio, stando a quanto affermato da Dagospia, potrebbero scendere in pista lo chef Bruno Barbieri e Bobby Solo ma anche il giornalista Antonio Caprarica, storico inviato del TG1 a Londra, e Theo Mammucari. Parlando invece della rettante parte dell'entourage della trasmissione, il cast fisso di Ballando con le stelle dovrebbe essere confermato in blocco. Pertanto, a partire da fine ottobre, accanto a Millie Carlucci, ci saranno ancora una volta Paolo Belli, alla guida dell'orchestra che accompagna dal vivo le varie esibizioni, Caroline Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni in qualità di giurati. Per concludere, al momento non ci sono ancora notizie certe circa i famosi, commentatori a bordo campo, ma sembra che stia per arrivare la conferma di Alberto Matano. Una sorpresa dell'ultimo minuto potrebbe poi essere l'arrivo di Simona Izzo a fare compagnia a Matano, pronta a stuzzicare il marito Ricky Tognazzi presente in gara.